Oh, un negozio di animali! Wow! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Come mai non indossano i cappelli? E come facciamo a raggiungere la nostra prossima porta se questi piccoli dinosauri non ci fanno passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Sei aggrappato a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Grazie a tutti!